Musica Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione Musica Ehi, salve a tutti per ritrovati in questo nuovo appuntamento con la serie Unboxing Signori, oggi andremo ad unboxare questo pacco Mi arriva dalla Urban Armor Gear Ci dice che ovviamente è una casa produttrice di case, di custodie per smartphone Che fa drop test ed io infatti ragazzi vi andrò a mostrare di cosa si tratta Ma andiamo subito ad aprire, ma poi mi spiegate perché il mio taglierino Guardate, non torna indietro, va avanti ma non torna indietro Un giorno mi taglierò e morirò di sa... no, no, spero di no Ok, riponiamo un attimo il tutto e andiamo ad aprire la confezione All'interno c'è la bolla di accompagnamento e nient'altro Sì, nient'altro, mettiamo tutto da parte ed ecco la cover signori Urban Armor Gear appunto si chiama ed è per iPhone 7 Plus Eccola qui Come al solito ovviamente vi ho detto ragazzi che le unboxo solamente per farvele vedere Si apre così, ma arriva fino alla fine? Arriva fino alla fine? Sì, arriva fino alla fine Ok, eccola qui Questa è una cover fatta per i drop test Quindi resiste non so a quante migliaia di metri Ve lo dico subito Aspettate un attimo Allora, resiste agli impatti No, non ci dice la durabilità Però comunque ha tutte queste caratteristiche Copera è leggera Resiste agli impatti Comunque il touchscreen è ottimo Resistente ai graffi Resistente agli urti eccetera eccetera Buono, direi che è ottimo Io ovviamente la recensirò a breve Vi faccio vedere solamente un po' i tasti Ok, ve la faccio vedere così in modo grossolano Poi ovviamente la recensirà prepuntita la troverete su AppleZen.net Questa è un'altra di quelle cover Quelle che praticamente arrivano Che le puoi lanciare, che ne so, dallo spazio Se qua, mamma mia Io le adoro E questa devo dire che è molto più carina della precedente Quindi mi sa che questa forse, forse la userò Ma non lo so, vedremo Io come al solito ragazzi vi saluto Vi ringrazio per aver visto questo nuovo video Come al solito arriviamo a 100 mi piace Nel prossimo episodio Iscrivetevi e commentate il video Nel prossimo punto è sempre qui con Mirko Per AppleZen Ciao Ciao